Musica Auguri, buon Natale, arrivederci, buon Natale, ciao, 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 auguroni a te, ciao, auguri Auguri, 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 grazie mille, auguri, buon anno Parma è una città in cammino e il messaggio per questo Natale 2016 è quello di non scoraggiarsi, di andare avanti, di credere nei propri obiettivi e credere nelle proprie capacità I parmigiani sono persone orgogliose, sono persone capaci e caparbie che mettono in gioco il loro destino per ottenere un risultato e veramente un futuro migliore Io quindi penso che il messaggio di quest'anno sia quello che dobbiamo andare avanti, non dobbiamo sfiduciarci di quello che sono le avversità del futuro e quindi andare avanti con serenità, con tenacia e con coraggio Veramente auguri a tutti i parmigiani di trascorrere un sereno Natale in famiglia, delle serene feste e veramente buon anno a tutti Ciao, ciao auguri, ciao Ciao Buon day, ciao 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 Ciao